Chi sei? Ayanga, quanto tempo. Per quale motivo sei qui? Mio figlio sta morendo, Malume. Come suo fratello. Tu puoi aiutarlo? Innanzitutto, la coraggiosa deve fare ritorno. Le sue armi saranno rivelate a tempo debito. Tiro subito fuori! Lasciala! Così? Hai rubato. Mi dispiace, credetemi. Proteggi questa ladra! E l'albero della vita deve essere in pericolo. Dobbiamo fare attenzione. Abbiamo tutti gli occhi addosso ora. E dovrei lasciar morire nostro figlio? Tutti i suoi magici e antichi poteri dovranno essere restituiti a lei immediatamente. Solamente la magia potrà guarire tuo figlio. Solamente la magia potrà guarire tuo figlio. Non c'errò o capire della magia potrà. Quindi, la magia potrà guarire quello che ha sorgato. Grazie a tutti